Uomini e donne, Alessia Spagnolo dopo essere stata eliminata Luca D'Affre, persona molto costruita, ecco chi sceglierà. Ad è stato stupore la decisione di Luca D'Affre di eliminare Alessia Spagnolo, la corteggiatrice 27enne già mamma della piccola Chloe che aveva iniziato a conoscere ancora prima della sua partecipazione a Uomini e Donne. Sembrerebbe infatti che l'agente dell'ex aspirante Miss Italia avesse contattato l'agente di Luca. Gesto che non è affatto piaciuto al tronista. Dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi, Alessia Spagnolo ha rilasciato un'intervista a Lollo Magazine. Sulle pagine del portale la donna si è espressa in merito all'ex naufrago della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi. Nel corso della chiacchierata, l'ex corteggiatrice ha parlato anche della possibile scelta di Nicole Santinelli. Alessia ha detto la sua anche in merito a quanto accaduto in questi giorni negli studi di Uomini e Donne, ovvero un Armando incarnato gate. Stau degeaba frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai spus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar Cât de sus, 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 pot eu să sar Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot mai sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar Cât de sus, cât de sus, cât de sus, pot eu să sar